Un minuto con Padre Pio dal complesso religioso di San Pio da Pietrelcina qui a San Giovanni Rotondo per raccontarvi quello che accadde nel 1946. Era il 20 novembre e Padre Giovanni d'Abbaggio, un frate cappuccino della provincia toscana, veniva spesso a tenere qui a San Giovanni Rotondo degli esercizi spirituali ed incontrava spesso Padre Pio in diversi periodi della sua vita. Ecco, proprio in questo periodo, nel 1946, lui tenne gli esercizi spirituali dal 12 al 25 novembre del 1946 e ebbe modo nelle sue memorie di trascrivere tanti pensieri di Padre Pio, tanti racconti, tanti confronti che fece con il Santo di Pietrelcina, in modo particolare quando un giorno, in questa giornata, lui raccontò che chiese a Padre Pio quale fosse la sua più grande sofferenza e subito Padre Pio rispose, il momento di maggior sofferenza per me è quello in cui non ho sofferenze da offrire al Signore. Ecco, questa frase, questa espressione di Padre Pio ci fa un po' riflettere, soprattutto per la sua grande santità. Quello che però invece faceva ancora patire nell'anima il Santo di Pietrelcina, scrive ancora Padre Giovanni D'Abbaggio nelle sue memorie, era la scarsa comprensione del mistero del dolore da parte di tutti quei pellegrini che ogni giorno invocavano il suo aiuto, la guarigione, il conforto per le loro sofferenze fisiche e morali. Tant'è vero che Padre Pio rattristato gli rispose tutti salgono questo monte, tutti vengono qua per farsi togliere la croce, ma nessuno per impararla a portare.